Tra 12 anni non potranno più essere immatricolate auto diesel o benzina e la rivoluzione dell'automotive voluta dall'Unione Europea per ridurre le emissioni di CO2. Anche i bus cittadini dovranno adeguarsi, così come il trasporto pesante. Quanto peserà questa decisione sulle spalle dei cittadini? Che fine faranno le vecchie auto? Basteranno 12 anni per effettuare la transizione energetica? Sono solo alcuni degli argomenti che affronteremo questa sera al graffio. Ne parleremo con chi vende le auto, con gli ambientalisti, con i tecnici del settore e con il mondo politico. Considerato il costo elevato delle auto elettriche, c'è da chiedersi chi potrà permettersi di sostenere una spesa del genere. Per non parlare dei problemi relativi all'approvvigionamento energetico, la presenza di colonine pubbliche al momento è concentrata soprattutto nel nord Italia, totalmente carente al sud e nelle isole. Le auto elettriche rischiano di creare un'ulteriore frattura economica in Italia. Il paese che ha prodotto il maggior numero di auto elettriche è la Cina e presto diventerà anche la prima esportatrice. È già la prima produttrice al mondo di batterie elettriche e una tra le più grandi aziende, la CATL, la scorsa settimana ha stretto un accordo con l'americana Ford per produrre batterie nel Michigan, sbarcando ufficialmente sul mercato statunitense fino a questo momento dominato da Tesla. L'Italia come reggerà la rivoluzione? Appuntamento con il graffio questa sera alle 23.50 su Telenorba e TG Norba 24.